Sperata la nuova line a 2.024, 1.8, ma non ancora tantissimi di templari della gamba a 2.023, i suoi minimi che adesso non lo sa, come queste meraviglioni, l'idea a 2.0 e 6.050, non lasciate neanche a fare, non sono perdite di neando, o notare di acappare la gamba a 2.024, ma non lo sa, 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 non lo sa. prefigliati del cosci diverso, non lo sa, non lo sa, non lo sa, non lo sa, non lo sa. Grazie.